Pregua finita, il Molise torna nella morsa di neve e gelo, disagi sulle strade, Pullman finisce fuoristrada a Campobasso, due incidenti in pochi metri e polemiche. Profughi dall'Ucraina, Toma pronti ad accoglierli, iniziata la ricognizione delle strutture, l'associazione Solidarietà Senza Confini riattiva la rete delle famiglie che ospitarono i bimbi di Cernobil. 4 kg di hashish in un vano di un'auto, la Guardia di Finanza arresta due stranieri residenti in Abruzzo intercettati al confine, la droga avrebbe fruttato 100.000 euro. Il nuovo ospedale divide gli Sernini, nostra inchiesta, intanto la minoranza chiede consiglio comunale ad hoc gli anestesisti, sia la nuova struttura ma la priorità e il personale. Demografia, imprese, Isernia meglio di Campobasso, il presidente di Confcommercio Paolo Spina più partenariato e utilizzo efficace dei finanziamenti, PNRR, opportunità da sfruttare. E infine allo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso Turris si recupera il 23 marzo, si ripartirà dall'1 a 2 e dal minuto 46, eccellenza, domani big match tra Termoli e Isernia. Buonasera, ben trovati con la nostra informazione in apertura, lo avete sentito dai titoli, parliamo del coronavirus con l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise, sentite. Giornata triste sul fronte dell'emergenza coronavirus in Molise. Una donna di 89 anni, di salcito, ricoverata in malattie infettive, non è riuscita a vincere la battaglia che stava conducendo da giorni. Le vittime del covid in oltre due anni adesso sono 569. Una notizia triste a cui fa da contraltare quella che parla di un boom di guariti, 709, ma ci sono ancora 320 nuovi casi, 71 i positivi emersi dai 1.045 tamponi molecolari processati dall'ASREM, 249 i contagi rilevati dai 1.337 test antigenici refertati da farmacie e laboratori. L'indice di contagiosità adesso è al 13,4%. Aumentano i degenti al Cardarelli complessivamente 31, di cui 7 non vaccinati. In queste ore una persona di Belmonte del Sannio si è aggravata ed è stata trasferita in terapia intensiva. Adesso in questo reparto ci sono 3 pazienti, 15 i degenti invece in malattie infettive, 13 nel reparto anziano fragile. Questo perché sono state ricoverate altre 3 persone all'ospedale Campobassano. In tutta la regione al momento i positivi sono 6.144, 2.924 invece i cittadini in isolamento. E ora il maltempo perché la tregua è finita ed il Molise è tornato nella morsa di neve e gelo. Tutti i particolari ce li racconta Samantha Cialla. Dopo una breve tregua il Molise di nuovo ha le prese col maltempo, quindi molissani ha le prese con freddo e neve. Dalla scorsa notte nevica in molti centri della regione, da Campobasso fino a quelli più collinari, verso la costa. Una ventina i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole, anche se bisogna dire in molti comuni era già prevista la sospensione in occasione dell'ultimo giorno di carnevale. Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine di automobilisti in panne. La viabilità è critica soprattutto nei piccoli centri. Comunque sono centinaia i mezzi a lavoro per liberare le strade e renderle percorribili. L'abbondante nevicata ha causato problemi di viabilità sin dal primo mattino. Diverse le segnalazioni ricevute dai tanti pendolari che si sono messi in viaggio e che hanno incontrato non poche difficoltà a raggiungere i rispettivi posti di lavoro. Siamo a Ripabottoni, questo è l'ingresso di una casa di riposo e sono in compagnia di un'operatrice socio-sanitaria. Lei non è del posto, quindi ha dovuto raggiungere la struttura e non senza difficoltà. Io sono arrivata stamattina alla Termoli e ho trovato difficoltà sia dalla Bifernina fino al paese, ma anche davanti alla struttura. La salita della struttura era totalmente sporca di neve e siamo preoccupati perché è comunque una casa di riposo, un'emergenza, un'ambulanza. Ci sentiamo un po' trascurati. Difficoltà a raggiungere i piccoli centri del Molise anche per i fornitori di generi alimentari che hanno lamentato una pulizia non ottimale delle strade. Disagi anche per chi ha scelto di non viaggiare con la propria auto, ma ha preferito raggiungere il capoluogo con i mezzi pubblici. Un autobus di linea in viaggio da Termoli in direzione Campobasso ha perso il controllo a causa dell'asfalto viscido, finendo fuori strada. Tanta paura per i passeggeri a bordo, ma fortunatamente nessun ferito. I problemi alla circolazione hanno riguardato anche Campobasso e mattinata su Via Colle delle Api, auto a passo Duomo e diversi tir fermi. Continua a nevicare, qui siamo nella zona industriale di Campobasso. Come potete vedere alle mie spalle ci sono camion fermi che hanno lasciato il loro mezzo sul ciglio della strada e non riescono a continuare a causa del manto stradale scivoloso. A Campobasso molti cittadini che hanno lamentato il mancato passaggio di mezzi spazzaneve. Doppio incidente a causa proprio della neve in via Conte Rosso, come dimostrano le foto inviate in redazione. Cinque le auto coinvolte sul posto ANAS 118. Nel capoluogo molisano le scuole chiuse ieri erano aperte oggi, ma molti genitori hanno optato per non far andare i propri figli a scuola. La città di Campobasso si è fatta cogliere in preparata, così il consigliere comunale del PD Giose Trivisonno, polemica la minoranza di centro-sinistra che questa mattina ha presentato un'interrogazione sul piano neve del comune. In modo particolare si chiede al sindaco di dare risposte sull'utilizzo dei mezzi di proprietà della SEA ed in particolare se gli stessi siano stati effettivamente usati sia come spartineve che come spargisale sul costo del piano neve e la differenza rispetto a quello dello scorso anno e sull'organo aziendale che deve materialmente dare il via alle operazioni di sgombero e secondo quali dati oggettivi di questa azione viene fatta. Cambiamo argomento, occupiamoci della guerra in Ucraina. Il Molise si prepara a far fronte a situazioni di emergenza legate al possibile arrivo di cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Dopo la riunione con il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che ha chiesto a tutte le regioni di farsi trovare pronte il Molise ha dichiarato a Teleregione il presidente Donato Toma avviato un'attenta ricognizione delle strutture disponibili e dei medicinali che sono in nostro possesso. Novità potrebbero esserci già nelle prossime ore. Restiamo sull'argomento perché l'Associazione Solidarietà Senza Confini riattiva la rete delle famiglie che ospitarano i bimbi di Chernobyl ma hanno detto i responsabili durante Fuoco Incrociato la nostra trasmissione è andata in onda ieri sera bisogna attivare corridoi umanitari. Sentite. Sono tantissimi, soprattutto donne, anziani, bambini, gli sfollati arrivati in Italia che provano a ricongiungersi con i familiari tantissime persone sono riuscite a salire in macchina o pullman e a passare le frontiere erano ragazzi, ora sono padri e madri di famiglia ed hanno un forte legame con il Molise un sentimento di affetto che non è stato scalfito dagli anni trascorsi dal disastro di Chernobyl con la solidarietà che già allora giunse dal Molise sono mille gli ucraini accolti in 15 anni dalle famiglie molisane che grazie all'Associazione Solidarietà Senza Confini domani alle 16 all'Alfaville si riuniranno per ricostruire la rete delle famiglie pronte a tendere la mano a chi è in difficoltà e rischia la vita sotto le bombe dei russi. Noi abbiamo praticamente rimesso in piedi la rete delle famiglie che nel corso di 15 anni hanno accolto qui in Molise circa mille bambini di Chernobyl e tra tutti loro c'è consapevolezza della gravità della situazione c'è la massima disponibilità ad attivare un intervento concreto una solidarietà concreta non fatta soltanto di commozione e di atti non concreti quindi praticamente abbiamo rimesso su questa rete di famiglie e stiamo cercando in tutti i modi di sollecitare l'attivazione di un corridoio umanitario abbiamo per questo invitato la regione Molise lo faremo con il sindaco di Campobasso, con i sindaci di altre città più grosse del Molise anche perché le famiglie che hanno ospitato i bambini nei 15 anni sono famiglie diffuse su tutto il territorio molisano Come possiamo aiutare donne, bambini, chi soffre, chi piange, chi rischia la vita la solidarietà, quella concreta, è stato il tema al centro della puntata di ieri sera di Fuoco Incrociato macchina della solidarietà che ha bisogno della politica per attivare il corridoio umanitario che renderebbe tutto più semplice Con il corridoio umanitario si permetterebbe di organizzare questi ragazzi coloro che chiaramente vogliono lasciare l'Ucraina e venire in Italia e quindi portarli qui in tutta sicurezza Che permetterebbe a Fernanda Di Gregorio di riabbracciare quella bimba, ora madre, di due figli che in Molise trascorse momenti spensierati Ha detto, ci siamo sedite per telefono e ha deciso di partire con i figli e con un nipotino che sarebbe il figlio del fratello che ha oltretutto una bambina malata di leucemia e attualmente ricoverata in un ospedale pediatrico oncologico a Kiev E che permetterebbe altresì di aiutare quei piccoli che da tempo lottano con mali talvolta incurabili Solidarietà Senza Confini è in contatto con Sole Terre l'associazione che a Kiev cura bambini con il tumore nei semi interrati Questo progetto di oncologia pediatrica che ha messo su Sole Terre ha permesso una riduzione della mortalità Questi sono dati concreti, verificabili e quindi loro stanno continuando a lavorare su questo terreno Noi continueremo a collaborare con loro come abbiamo fatto negli anni passati Abbiamo contribuito anche all'acquisto del terreno per la costruzione della Dacia dove vivono le famiglie che hanno i bambini ricoverati Non so se avete visto le immagini nei giorni scorsi i bambini sono stati traslocati nel sotterraneo cercando di dargli continuità nelle cure L'amministrazione comunale di Macchia di Isernia illumina il municipio con i colori della bandiera dell'Ucraina per comunicare il proprio no alla guerra senza se e senza ma comunica altresì la propria adesione alla Marcia per la Pace in programma come saprete domani pomeriggio a Isernia a partire dalle 18.30 è promossa proprio dall'amministrazione comunale Pentra Unimol al fianco della comunità accademica ucraina il Senato in seduta straordinaria per varare l'iniziativa di sostegno e solidarietà il Rettore e il Professore Luca Brunese ha convocato per domani alle 12.30 una seduta straordinaria in monotematica del Senato un unico punto all'ordine del giorno emergenza e crisi umanitaria nella Repubblica Ucraina iniziative solidarietà e di collaborazione a favore di studenti e ricercatori e sostegno alle università e ai centri di ricerca per il mio argomento occupiamoci del coronavirus nessun decesso è più guariti che positivi ancora arrivano i rinforzi in rianimazione tre giovani anestesisti ci racconta tutto Valentina Ciarlante Finalmente il bollettino segna zero nella casella decessi dopo diversi giorni non risultano vittime a causa del covid-19 ma si contano altri due ricoveri in Molise e 231 nuovi casi con l'indice di positività che sale vertiginosamente ora al 37% Al Cardarelli sono stati trasportati due pazienti di Campobasso mentre non risultano dimissioni adesso sono 29 i degenti nell'ospedale del capoluogo 14 in malattie infettive, 2 in terapia intensiva 13 nel reparto anziano fragile e dei 29 complessivi 7 non sono vaccinati come si diceva 231 nuovi casi relativamente a 624 tamponi processati tra molecolari e antigenici i guariti sono 277 quindi gli attualmente positivi scendono a 6533 intanto arrivano buone notizie in merito all'incremento del personale medico il direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano ha annunciato con una foto e con un post sulla sua pagina social l'arrivo di tre giovani anestesisti una donna e due uomini vincitori del bando di concorso che ha registrato decine di domande ora saranno i collaboratori del primario Romeo Flocco sono loro i nuovi medici degli ospedali molisani le parole di un emozionato florenzano due anni fa mi sarebbe sembrato un miracolo avere così tanti dottori nel reparto chiave per la lotta al covid ora passiamo anche agli altri mattoni della nuova casa della sanità molisana la cronaca un'importante operazione della guardia di finanza di Campobasso che ha accolto in flagranza di reato ed arrestato due soggetti un uomo ed una donna stranieri residenti in Abruzzo per traffico di sostanze stupefacenti con 4,2 kg di hashish droga occultata nel rivestimento interno di una delle portiere posteriori dell'abitacolo in un apposito e camuffato vano creato ad hoc l'auto sottoposta a controllo nel trafto di confine tra Puglia e Molise direzione nord si tratta di uno dei più ingenti sequestri su strada fa sapere la guardia di finanza in un'unica soluzione operato negli ultimi tempi sul territorio di riferimento lo stupefacente di ottima qualità avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio oltre 100 mila euro i due soggetti tratti in arresto sono stati tradotti in carcere rispettivamente a Pescara e a Pozzuoli a disposizione dell'autorità giudiziaria la procura della Repubblica di Larino ingresso a scuola diverso dal solito per gli studenti dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato del comune di Montenero di Bisaccia questa mattina sono stati accolti dal cane Baghera dell'unità cinofila dei Carabinieri di Chieti unitamente a personale della stazione di Montenero di Bisaccia nonché di quello della sezione operativa del nor della compagnia di Termoli impegnati in un servizio volto a prevenire e reprimere il fenomeno della diffusione tra i giovani dell'uso di sostanze stupefacenti i Carabinieri in sinergia con il dirigente scolastico con il corpo docente e con gli stessi alunni hanno effettuato un controllo all'ingresso della scuola le attività si sono svolte con la piena collaborazione da parte dei ragazzi e ora parliamo di demografia di imprese Isernia meglio di Campobasso il presidente di Commercio Paolo Spina dice più partenariato e utilizzo efficace dei finanziamenti il PNRR in tal senso può rappresentare una opportunità da sfruttare dunque è il commercio in ginocchio sentite Meglio Isernia che Campobasso nel capoluogo di regione soffre il commercio al dettaglio con un saldo negativo di imprese meno 19 tra il 2019 ed il 2021 di cui 6 nel centro storico più del doppio 13 quelle situate in altre aree cittadine in crescita le attività come alberghi, bar e ristoranti con un saldo positivo più 19 con 8 nuove imprese nel centro storico e 11 nel resto della città nel bienio considerato dall'indagine migliorano i dati di Isernia con 10 nuove attività nel commercio al dettaglio di cui 3 nel centro storico e 7 nella restante parte della città aumentano rispetto al 2019 anche i numeri relativi ad alberghi, bar e ristoranti più 5 che diminuiscono nel centro storico meno 1 per espandersi nei quartieri più 6 dati che emergono dalla settima edizione dell'osservatorio sulla demografia d'impresa di Confcommercio che ha elaborato i dati dell'istituto Tagliacarne di 110 capologhi di provincia è necessario, afferma il presidente di Confcommercio Paolo Spina rafforzare i partenariati con le amministrazioni locali per la definizione di strategie condivise che possano contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale e valorizzare il tessuto economico in tutte le sue forme e funzioni incluse quelle di attrazione culturale, turistica, di sostenibilità di quartiere e di innovazione capillare e diffusa migliorando al contempo la qualità urbana e la coesione sociale mettiamo a disposizione le nostre esperienze commenta il direttore regionale Irene Tartaglia per studiare con le amministrazioni e le istituzioni interessate modelli di governance urbana che con il contributo di chi nella città vive e lavora guardino al medio e lungo termine e siano realmente capaci di dare risposte concrete all'economia reale e alla vita quotidiana dei cittadini e degli imprenditori utile in questo senso utilizzare efficacemente i finanziamenti disponibili conclude Spina a partire dalle opportunità contenute nel PNRR per la rigenerazione urbana ma anche con riferimento alle ulteriori risorse per le città previste dalla nuova politica di coesione 2021-2027 e ora andiamo ad Isernia perché la possibilità di costruire un nuovo ospedale divide la cittadinanza Nicola De Santis Dopo le polemiche tra maggioranza e opposizione sull'opportunità di realizzare in città un nuovo ospedale anche l'opinione pubblica isernina si divide tra favorevoli e contrari la maggior parte vorrebbe che venisse valorizzata la struttura già esistente che senso ha costruire un nuovo ospedale? chiedono se il vecchio caro veneziale è praticamente dismesso altri invece plaudono alla volontà del governatore di realizzare una struttura ex novo perché considerano obsoleto il vecchio edificio ugualmente però ritengono prioritaria l'offerta sanitaria e non la struttura Eh, sarebbe buono se lo fanno quando si fa una cosa è buona per tutti o mi sbaglio? Secondo me se si fa è una cosa molto utile per la popolazione di questa città se ci possono essere i miglioramenti del servizio sì Ma perché non incentiviamo i servizi? Eh, perché praticamente non abbiamo quasi più servizi negli ospedali io vengo di Agnone e ci è rimasto poco e niente forse sarebbe meglio incentivare i servizi visto che le strutture esistenti ci sono Eh, certamente se più ospedali ci stanno più è meglio specie attrezzature moderne certamente sarà sempre meglio no? Tutto quello che si fa è tutto buono E ci mancherebbe altro ci manca tanto di ospedale di sanità certamente sono contento Sarebbe opportuno far funzionare quello che c'è prima di pensare a costruire un altro ospedale Perché non funziona? Beh, io potenzierei quello che già c'è perché non è poi così vecchio perché invece di costruire uno ex novo si potenzia quello che già c'è Penso che è un risparmio sulle risorse disponibili No? Noi non sappiamo più cosa dire Non lo so l'ospedale è andato sempre bene se lo devono cambiare abbiamo piacere se ci fanno una struttura meglio di questa perché non c'è più niente qua se lo fanno per noi va bene quindi come facciamo? Se è una cosa buona si faccia pure quindi qua stanno togliendo tutto l'assistenza a casa tutto quindi per gli anziani è una cosa importante l'assistenza a casa Allora io penso che i soldi i soldi che vengono investiti sugli ospedali vanno sempre bene perché la salute del cittadino deve essere sempre tutelata Guardi ovviamente non sono decisioni che possiamo prendere noi però è anche vero che forse un ospedale nuovo farebbe comodo alle esigenze di tutta la popolazione e quindi secondo me sono favorevole Sì Sicuramente sarebbe un'ottima cosa anche perché la sanità sappiamo qui in Molise come sta quindi sarebbe sicuramente una cosa positiva Per la realizzazione di un nuovo ospedale io penso che va benissimo il vecchio magari adattato alle diciamo utilizzate rendendolo utile per quello che serve adesso costruire un altro ospedale significa e nel frattempo che si fa io ritengo che può essere utilizzato benissimo il nuovo ospedale ristrutturato utilizzato utilizzandolo al meglio nelle sue potenzialità buttare altro cemento ritengo che sia una cosa inutile e io penso che non va bene nemmeno questo vecchio mancano gli operai a questo vecchio mancano gli infermieri dottori figurati se fanno quello nuovo per me devono aprire parte di questi cani chiusi qua non c'è bisogno di fare uno nuovo per spendere tanti soldi restiamo sull'argomento perché la minoranza chiede un consiglio comunale ad hoc ancora Nicola De Santis i consiglieri di minoranza del comune di Sernia hanno inoltre la richiesta di convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria e a buon temato abbiamo evidentemente un problema con il servizio ma restiamo sull'argomento perché sulla questione del nuovo ospedale è intervenuto anche la Roy Emac del Molise in primis va ricordato che il presidente Toma già nel 2008 dichiarava che l'ospedale veneziale di Sernia è una struttura rischio sismica ha dichiarato il presidente regionale David Di Lello e poi la costruzione del nuovo ospedale consentirebbe di risolvere tutta una serie di carenze dell'attuale struttura che difficilmente invece sarebbero risolvibili con un adeguamento o ristrutturazione qualche esempio gli spazi ad oggi a disposizione di diverse unità operative in specie di pronto soccorso e rianimazione nel blocco urgenza emergenza sono inadeguati alle esigenze dell'utenza e dei professionisti sanitari soprattutto dopo il ridimensionamento degli ospedali di Venafro ed Agnone dice Di Lello ma che si preveda un ospedale ex novo o una ristrutturazione con adeguamento antisismico dell'esistente occorre tuttavia conclude Di Lello sollecitare tutti i decisori politici coinvolti a risolvere con estrema urgenza la grave carenza di medici specialisti e di professionisti sanitari senza i quali non si potranno mai offrire prestazioni adeguate alla popolazione con il risultato di sperperare risorse per scatole vuote dunque dice Di Lello andrebbe anche bene un nuovo ospedale ma la priorità è quella di riempire le corsie con medici e subito dopo il Tg Sport andrà in onda una nuova puntata di un caffè insieme lo spazio di approfondimento dedicato ai temi della salute oggi con il professor Francesco Deodato direttore del Dipartimento Servizi e Laboratori avremo l'occasione di conoscere meglio il parco tecnologico della radioterapia del Gemelli Molise il centro dispone di macchine di ultima generazione che permettono di eseguire trattamenti mirati risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure non perdete dunque questo appuntamento subito dopo il nostro telegiornale sportivo e ora facciamo gli auguri ad una affezionata telespettatrice la signora Lucia spegne 90 candeline sei il nostro pilastro sei una donna meravigliosa determinata e sensibile che rappresenta la nostra guida e parte del nostro cuore con immenso amore ti auguriamo tanta felicità dunque auguri speciali a Lucia da parte di Liliana Paolo Peppe Lucy Lara Claudia Antonella Paola Carmine Maria Edi Lorenzo Enzo Giovanni Rosanna e tutti i suoi amici auguri ovviamente anche da parte della nostra redazione bene è tutto ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo Previsioni del tempo per mercoledì 2 marzo si attenua la circolazione ciclonica ma resta attiva una modesta instabilità possibili nevicate anche a bassa quota mare molto mosso temperature in rialzo vediamone nel dettaglio Campobasso meno 1 8 Isernia 0 12 Termoli 6 10 Venavro 1 11 gradi è tutto con questa edizione ora linea alla regia consigli per gli acquisti tra pochissimo c'è la pagina sportiva parleremo di calcio del Campobasso di calcio di eccellenza con il big match in programma domani al Cannarsa tra Termoli e Isernia ci occuperemo anche di basket a tra pochissimo lo sport il calcio di Lega Pro parliamo subito del Campobasso perché la gara con la Turris sospesa per neve come saprete sabato scorso si recupererà il 23 marzo con fischio d'inizio alle 14.30 l'amministratore delegato De Francesco parla di una gara falsata dalle condizioni del campo e intanto sabato i lupi saranno di scena a Picerno sentite mese di marzo decisivo per centrare la salvezza 6 gare in 20 giorni con in palio punti pesantissimi per blindare la permanenza in categoria con la Turris si recupererà mercoledì 23 con fischio d'inizio alle 14.30 intanto è ancora grande il rammarico per aver giocato un tempo su un terreno di gioco che non era in perfette condizioni in tutta onestà forse anche il primo tempo le condizioni non erano ottimali già dall'inizio l'albitro ha deciso di far comunque giocare è chiaro che viene fuori poi una gara difficile falsata perché giocare su un campo così due squadre belle come il campo basso la Turris che esprimono un bel gioco in condizioni normali verrebbe fuori una bella partita con i campani si ripartirà dall'1 a 2 maturato sul campo innevato ai romagnoli gli abbonati e i tifosi che avevano acquistato il tagliando intanto Gudini e soci sono al lavoro sotto la neve per preparare la gara di sabato i lupi viaggeranno alla volta di Picerno con l'obiettivo di incamerare i punti al cospetto di un avversario da tenere in grande considerazione che ha 7 punti di vantaggio sui rosso-blu ma con un match in più giocato e si ripartirà chiaramente dal 46esimo dal secondo tempo sul punteggio di 1 a 2 non ci sono stati i cammini dall'una e dall'altra parte quindi comunque si potrà decidere la formazione ognuno dei due rispettivi mister potrà decidere la formazione da mandare in campo è chiaro che chi ha acquistato il tagliando per poter vedere questa gara avrà diritto di accedere anche nella prossima gara quando verrà fissato appunto il turno restiamo al calcio ma scendiamo di categoria parliamo di eccellenza perché domani pomeriggio con fischio di inizio alle 15 al Cannarsa è in programma il big match tra il Termoli e l'Iserne in campo andranno due formazioni con delle defezioni i bianco celesti infatti saranno privi di Leonardo del difensore di Leonardo che ha trovato lavoro fuori regione dunque ha lasciato la cittadina Pentra e non potrà scendere in campo neanche Petrone che non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare il Termoli invece sarà privo di Costanzo Carnicelli e Caterino con mister Esposito che invece spera di recuperare Visconti fischio di inizio come dicevamo alle 15 arbitra Francesco D'Andrea Dino c'era inferiore dunque arbitro di fuori regione con gli assistenti Battista e del balzo della sezione di Campobasso restiamo in casa Pentra in casa Bianco Celeste ascoltiamo la soddisfazione del presidente Traisci e del direttore generale Palmeggiano dopo la conquista della Coppa Italia regionale li abbiamo intervistati entrambi sabato pomeriggio al De Santis di Montenero di Bisaccio sentite Presidente Traisci un ritorno a Roma bagnato ma felice assolutamente sì spero di non incontrare la neve ma per il resto sarò molto contento di passare queste due ore in macchina almeno due ore e mezzo felice per la partita e per come è andata le condizioni climatiche sono quelle che sono ma per me Romano che viene spesso in Molise sono abituato a questo tipo di condizioni purtroppo sentami Correga se sbaglio è il primo trofeo della sua era? assolutamente sì sensazioni? è indescrivibile finalmente un trofeo un trofeo meritato e sono molto contento perché giustamente vincere qualcosa è sempre bello c'era anche il sindaco per un progetto ambizioso c'è bisogno anche del supporto dell'amministrazione comunale? assolutamente c'è bisogno dell'amministrazione c'è bisogno dell'imprenditoria di tutta la città dei tifosi perché il progetto deve andare avanti e deve andare avanti per tutti e con tutti bella partita gol bellissimo direi assolutamente sì faccio i complimenti a Campomarino ma la partita devo dire che l'abbiamo fatta noi e quindi loro si sono difesi bene hanno cercato di arginare le nostre iniziative ma al di là un po' del vento eccetera ma la partita l'abbiamo fatta noi ora inizia un altro percorso quello fuori dal Molise con l'Aquila l'Aquila è uno squadrone non bisogna nascondercelo però cercheremo di fare il nostro nel senso che noi siamo una squadra che sa giocare a calcio e speriamo di poterlo fare con l'Aquila presto Almeggiano cosa significa questa medaglia al collo? Cosa simboleggia? Beh significa che ci siamo portati a casa alla Coppa Italia oggi quindi siamo contenti insomma è una giornata ostile dal punto di vista climatico e meteorologico però ci ha regalato una grande soddisfazione bagnato ma felice bagnato ma felice il termine è giusto oggi davvero sono 6-7 ore che siamo sotto a un'acqua fredda e gelida però almeno ci siamo riscaldati portando a casa un trofeo La fase nazionale c'è l'Aquila Alisena se la può giocare a viso aperto con tutte? Ma noi ce la giocheremo chiaramente l'Aquila è una squadra importante è una squadra diciamo probabilmente più attrezzata della nostra però noi non abbiamo paura di nessuno rispettiamo tutti ma ce la giochiamo sicuramente Lasciamo il calzo occupiamoci di basket della Magnolia Campobasso rigenerata dal successo di domenica sul Ragusa sentiamo la play Trimboli sulle prospettive Francesco Presutti Stefania gara vietata ai malati di cuore sì vietata anche per noi in campo ai malati di cuore per dir la verità è stata una bella gara molto intensa dal primo minuto siamo riusciti ad allungare grazie a delle conclusioni di squadra ovviamente il talento di Robin Parks oggi è uscito del tutto e poi siamo state brave a portare a casa questi due punti importantissimi per noi siete state brave anche nel far sentire a casa la nuova arrivata Alissa e nel dedicare la vittoria a Nina sì sicuramente era un momento difficile venivamo da un gennaio a un febbraio difficili sia per il covid che per gli infortuni avevamo perso il ritmo partita e l'infortunio di Nina è arrivato in un momento molto delicato cercavamo due punti un po' a forza e oggi li abbiamo ritrovati con l'arrivo di Alissa che è una ragazza fantastica si è integrata benissimo nel gruppo è molto solare e dà molta fiducia a tutte noi ragazze quindi direi che dovevamo dedicarla a Nina perché Nina se lo merita e dopo un infortunio così brutto era giusto dedicarla a Nina e sono contenta che Alissa si sia integrata in questa maniera Stefania vittoria importante per due motivi primo per la classifica perché dovevate muovere necessariamente la classifica e del resto contro una grande squadra come era Vusa e poi per il morale sì sicuramente a mente resta il momento più il morale perché dal morale viene tutto dopo sicuramente se si è in un momento positivo poi si guarda la classifica con il sorriso con l'infortunio di Nina che è arrivato in un momento già negativo di per sé non trovando due punti aveva un po' il morale sotto i piedi poi è arrivata Alissa è riuscito a rallegrare un po' la squadra e con questa vittoria direi che abbiamo messo la ciliegina sulla torta scrivi bene è più importante il morale anche perché ora c'è Schio ora c'è Schio in battuta non lo so è una forza che al momento sembra imbattibile noi proveremo a metterci tutte le nostre forze per fare il possibile sai come si dice per chiudere c'è sempre una prima volta c'è sempre una prima volta chiudiamo con il futsal del Miranda la finale regionale di Coppa Italia del torneo di futsal femminile di fronte al Venafro le Pentre dopo un primo tempo intenso sono riuscite ad uscire fuori nella ripresa con le realizzazioni di Riccio e Cerrone per il quintetto di Viscovo da marzo spazio alle fasi nazionali complimenti alle ragazze di Coach Viscovo bene è tutto anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie